Buon martedì 29 dicembre. Che cosa significa predisporsi di fronte al problema che incontriamo con l'adesione a un approccio familiare sistemico? Non è semplicemente invitare all'incontro tutti i membri della famiglia semplicemente per far numero. Significa che ciascun membro della famiglia incomincia a ripensare la propria appartenenza, a non etichettare colui che sembra essere il membro designato soggetto sintomatico e fa spazio dentro a se stessi a una disponibilità al cambiamento. Questo è l'approccio familiare. La terapia della famiglia non significa che è necessario cambiare, aggiustare il sistema familiare. Ma terapia della famiglia significa mettersi al servizio di una famiglia che è recalcitrante al processo evolutivo, alla trasformazione, nonostante ci sia una voce che esprime un disagio esistenziale, spirituale, cioè una incapacità di adattamento reciproco alle condizioni date. Questa sintomatologia può esprimersi in qualsiasi momento della storia familiare e può trovare dei punti di riferimento nella storia delle famiglie estese e guardando in prospettiva immaginare inevitabilmente che quella famiglia anagrafica è destinata a trasformarsi, a porre la parola fine al proprio percorso a un certo punto, perché l'anagrafe non è fissa per l'eternità. L'anagrafe è mutevole per sua natura perché gli esseri umani sono mutevoli. Ecco che allora disporsi con un approccio familiare di fronte alle preoccupazioni nei confronti di un sintomo espresso, penso all'alcolismo, significa rivisitare nel dettaglio il proprio stile di vita, i propri comportamenti. Vi faccio un esempio di estrema semplicità. Quando una persona è stata identificata come alcolista, io guardate non uso questo termine ordinariamente, ma so che gran parte dei miei colleghi lo usano, magari con sfumature tipo sindrome di dipendenza alcolica, siamo di fronte a una dipendenza, un craving incoercibile, usano un linguaggio che non mi appartiene, perché ho fatto un altro percorso culturale e anche professionale, che rivendico con umiltà, non con orgoglio, semplicemente con l'umiltà di colui che non sa e che giorno dopo giorno incontra una conoscenza che non riuscirò mai a possedere. È un mistero, quello della vita, che non comprenderò mai fino in fondo, però molti miei colleghi professionisti hanno costruito questa immagine che gli specialismi delle professioni sono in grado di modificare il senso, il piccolo dettaglio, senza modificare l'insieme, senza modificare il sistema. La mia non è una critica, ma una distinzione su ciò che l'ecologia sociale antropo-spirituale propone sul piano culturale, scientifico, spirituale ed esperienziale. Ebbene, quando in una famiglia appunto c'è quella entità fenomenologica definita alcolismo e alcolista, c'è una preoccupazione mista a rabbia ovviamente. La rabbia genera aggressività e violenza, reciproca. Bene, anche quando si approda alla definizione dell'alcolismo come malattia, malattia del singolo ovviamente, molto difficile entrare nell'ordine delle idee che siamo di fronte a una malattia della famiglia, bio-psico-sociale, come ci insegnò Udolin all'inizio della sua esperienza. In Italia inizia nel 1979, quando è avvenuta la riforma psichiatrica, che rappresenta un evento culturale straordinario, un porre fine all'idea manicomiale, custodialista e ostinatamente riparativa del soggetto deviante, e apre la strada, purtroppo poi abbandonata, di uno sconfinamento disciplinare che riconosca le matrici sociali della malattia, le matrici culturali, una biologia che è attenta alle relazioni che ogni persona costruisce col mondo vivente, facendone parte, dove natura e cultura si confondono e si intrecciano, dove anche il cambiamento climatico influisce fortemente sullo stato di salute della popolazione, dove anche le ingiustizie sociali rappresentano un cofattore determinante delle condizioni di salute di una popolazione. Ebbene, tutto questo dispiega una forma organizzativa della tutela e della promozione della salute che non può essere confinata né in una specializzazione del dettaglio. È necessario cambiare rotta, entrare nel campo della complessità, che naturalmente viene misurato nel semplice dettaglio della vita quotidiana. Quando sentiamo ospitato nel nostro sistema familiare, mononucleare o anche allargato naturalmente, non sulla famiglia anagrafica, ma anche l'intreccio delle relazioni familiari che si costituiscono nel corso del tempo e dalle quali deriviamo e verso le quali andiamo in un futuro inimmaginabile. Credo che l'atto più crudele, più sadico, è quello rappresentato dal fatto che c'è una persona che non può bere e tutti gli altri possono permetterselo. O se accettano un periodo di, chiamiamola, astinenza, lo fanno non per convinzione, ma per essere gratificati nei confronti di un sacrificio che fanno per l'altro. Quindi non sospendono l'uso delle bevande alcoliche perché ne hanno colto la pericolosità, l'appartenenza a una cultura della dissipazione, la funzione di distorsione degli stati mentali per non affrontare un disagio esistenziale che bussa alla porta. E soprattutto in occasione delle festività, dei matrimoni, battesimi, comunioni, altre occasioni festaiole, c'è sempre la necessità di imbandire la tavola con una bevanda alcolica anche quando c'è la persona che è stata definita alcolista, che si guarda ovviamente con sguardo di tensione, di attenzione morbosa nei confronti del suo comportamento. Lui non può bere. Tutti gli altri non solo possono, ma si sentono in dovere per onorare la festività. E tanto più questa forma di sadismo prende piena espressione, quanto più persone estranee vengono introdotte, che non sanno che quella persona è alcolista, però vedono che non beve. E di fronte magari alle domande indiscrete che spesso gli ospiti fanno, c'è ma lui in questo momento non può perché che so c'ha un'allergia, deve prendere dei farmaci, cioè è una autosospensione sacrificale rispetto a un piacere collettivo che riguarda i normali. Questo è sostanzialmente quello che accade. E molto spesso i familiari accompagnano l'ecolista e il club. Anche questo è un atto di sadismo in fondo. Se non c'è un coinvolgimento personale, se non c'è il riconoscimento di frequentare un club per cogliere ciò che non va in se stessi, per cogliere in quella presunta normalità l'ostacolo nei confronti di una evoluzione richiamata dal comportamento dissipativo dell'altro. E se si innesca a questo meccanismo di disponibilità il cambiamento personale, anche se l'altro non smette di bere, ebbene io do il mio contributo, non per cambiare l'altro, ma per cambiare me stesso. Entro nel merito delle enormi contraddizioni nelle quali ciascuno di noi vive inevitabilmente. La vita è fatta di contraddizioni. Una delle più grandi contraddizioni è presumere di essere normali. Se voi poi chiedete alle persone che cosa significa per te essere normale, palpettano qualcosa, ma se lo riferite a qualcosa che riguarda la bevanda alcolica vi dicono io non mi ubriaco. Io non sono come lui che nasconde le bevande alcoliche, rituali classici dell'alcolismo. O io non sono nelle condizioni per poter essere affidato agli specialismi alcologici che mi rimettono in sesto e mi permettano, se possibile, di tornare a bere moderatamente come fanno i normali, quei normali che pretendono ovviamente simbolicamente il controllo su tutto ciò che fanno. Ed è proprio quella forma del controllo che ci porta inevitabilmente a proiettare il pensiero a su come noi abbiamo vissuto il nostro rapporto con l'ambiente e con la natura. Pensavamo di controllarla. Poi compare un virus che appartiene alla storia non solo millenaria, ma di milioni di anni, forse miliardi di anni. I virus rappresentano gli albori della vita, tentativi evolutivi di costruire la vita in questo splendido pianeta, che per quanto ci ha dato sapere e per quello che possiamo osservare intorno a noi è l'unico ad avere in sé gli elementi della vita. Per ora sappiamo questo, ma quella vita ci chiede custodi e coltivatori attenti, non predatori ossessionati da una potenza del controllo. Ma anche le relazioni affettive segnate dalla condizione del controllo finiscono per innescare semplicemente delle guerre di potere. Perché se reciprocamente riconosciamo l'impossibilità di controllare l'altro, dobbiamo abdicare a questa idea del controllo che fonda la normalità ma è la matrice dalla quale deriva ogni forma dissipativa. In fondo la follia non è altro che un grido di allarme nei confronti di questo delirio di onnipotenza che attraversa l'uomo fin dai gesti più semplici della vita quotidiana. Questo è il punto centrale di Alcolisti Anonimi e del pensiero e dell'opera di Vladimir Udoli. Alcolisti Anonimi, ripeto, pone al centro del suo agire il riconoscimento dell'impotenza. C'è un potere più grande di fronte al quale non si può fare nulla, ma che riguarda tutti, non solo gli alcolisti. Gli alcolisti semplicemente hanno messo in scena l'impossibilità di esercitare il controllo unilaterale su un evento banale e ordinario come il consumo delle bevande alcoliche. Loro lo rappresentano e chi sta intorno a loro lo richiamano a una normalità fondata proprio sull'idea del controllo. Pertanto quando si banchetta insieme all'alcolista o si percorre insieme a lui una strada di disponibilità al cambiamento personale, il comportamento del bere è qualcosa che mi pone una scelta, una scelta evolutiva, non obbligatoria, non devo perché lui è alcolista, non devo smettere di bere perché lui è alcolista e sacrificarmi per un po' di tempo, ma posso farlo, posso farlo se attraverso quella rinuncia a un comportamento e c'è un elemento anche di natura sacrificale. La sobrietà non è immaginabile senza l'astinenza, ma l'astinenza dal sola non può garantire la sobrietà, che è proprio l'uscita da questa dimensione del controllo. Udoli insistette molto su questa necessità del superamento dell'astinenza per costruire una prospettiva antropologica e culturale che impara a coltivare la sobrietà, ma non la troviamo in un pensiero astratto, ma in un gesto concreto, quello di porci una domanda a noi stessi di fronte a quella presunzione di normalità che è il brindare di fronte all'alcolista, che se si astiene naturalmente rende ancora più gradevole quel bicchiere di vino che io posso permettermi e l'altro no. Ecco questa è la precondizione che dovrebbe accompagnare ogni inizio di percorso nel club e dei suoi programmi ed è un fatto emblematico e paradigmatico perché non solo quando incontro l'alcolista, ma quando incontro il depresso, lo psicotico, devo ascoltare la depressione che sta in me e la psicosi che sta in me, cioè quel bussare alla porta da parte di sintomi che ci mettono in guardia alla nostra inconsapevolezza di vivere dentro un disagio molto profondo che ogni tanto si esprime, lo stesso disagio che oggi attraversiamo nel distanziamento sociale, nella paura collettiva, che ci dovrebbe indurre a prendere precauzioni non relative alla epidemia e alla sua contingenza, ma precauzioni legate al fatto che questa è un'occasione unica di svolta, di cambiamento, di mettere al centro l'ecosistema, la giustizia sociale, la dimensione dell'amore che abbiamo trascurato in nome del Dio denaro. Questi sono gli elementi che a mio parere l'atto simbolico di porre una scelta di fronte al rito ordinario del consumo di bevande alcoliche, una scelta che ci chiede di scegliere indipendentemente dall'alcolista che c'è intorno a noi, cogliendo l'alcolista che c'è in ciascuno di noi. Ci fu una copertina molti anni fa, decenni, di una rivista specialistica in campo alcologico, Alcohol Health Research Award, dell'agenzia americana, che si occupa dei problemi alcol correlati, che metteva in copertina moltissime facce, molto diverse tra loro per età, appartenenza etnica, di genere, e alla fine si diceva chi è l'alcolista? Era una domanda provocatoria, perché al di là dei presunti saperi specialistici, l'alcolista in realtà è qualcosa che noi non possiamo identificare in una persona, ma è qualcosa che ci appartiene profondamente ed è una di quelle condizioni che simbolicamente ed efficacemente rappresenta l'essenza e la matrice fondamentale della domanda relativa alla salute mentale, al disagio spirituale, alla difficoltà di accettare noi stessi alle condizioni date e insieme agli altri cercare dei percorsi evolutivi. Questa è una delle essenze del pensiero e dell'opera di Vladi Minutoli e quindi inevitabilmente dell'andare in un club. Buona giornata a tutti!